Champions League, i grandi numeri di una stagione spettacolare. Dal Celtic Park di Glasgow, la partita delle partite. L'ultimo ostacolo per la gloria. Bayer Leverkusen, Real Madrid, finalissima di Champions League. Mercoledì 15 maggio in esclusiva su Italia 1. Benissimo, allora, abbiamo prontato un sistema d'emergenza, no? Io credo che in questo momento facciamo a coppie, perché abbiamo visto chi c'è. Allora, Antonio Conte e Moggi ci ascoltano. Luciano, ci sei? Luciano, mi senti? C'è, c'è. Ci sono, ci sono. Allora mi senti anche tu Bartolomucci, eh? Esattamente. Lo dico io, lo dico io. Fai tu il conduttore, Luciano, dai sei abituato. No, dico io a Bartolomucci quello che mi dici tu. Senti, da dove vogliamo cominciare qui? Cominciamo... Da dove vuoi? Dal fatto che Senzi era sicuro che avreste vinto voi lo scudetto. Eh, io infatti ho cominciato a sperarci quando l'ha detto lui. Come l'avvocato Agnetti. Ma... Perché è uno che vede lontano, Senzi? Allora, perché non credergli? Ma vi ha infastidito di più qualche insinuazione di Senzi o qualche battuta recente di Moratti? Guarda, io l'ho detto oggi, se volete lo ripeto anche adesso. Io credo che il calcio oggi abbia dimostrato che è il pallone a decidere le partite, non la lingua dei dirigenti. Per cui, tutto sommato, credo che chi alimenta sospetti per entrare dei vantaggi, oggi è rimasto sconfitto, il calcio ha vinto, perché il pallone è solito affezionarsi a chi lo sa trattare. La Juventus evidentemente lo sa trattare. Ma tu sei particolarmente soddisfatto perché la Juve ha dimostrato di saper vincere anche senza Zidane? Ma guarda, io devo dirti una cosa. Adesso mi dispiace che entrate sempre nelle polemiche fuori posto. Tenete conto che Zidane gioca nel Real Madrid, è una grande squadra. Non ha vinto né il campionato né la Coppa di Spagna. Noi abbiamo vinto il campionato e siamo in finale di Coppa Italia. Quindi, tutto sommato, vorrei dire che abbiamo fatto bene anche senza Zidane, ancorché questo sia un campione conclamato che tutti stimiamo. Allora voglio che Mughini dicono che oggi è una gestione oculata. Tutti lamenti che non vogliono mai spendere troppi soldi. Quest'anno li hanno spesi? No, no, no. Non mi fare dire e pensare quello che non penso. Io ho sempre condiviso e apprezzato la politica che chiamerò Sparagnina e che era invece necessaria e realista della Juve, la quale politica precorreva una necessità che sarà di tutti di non buttare i miliardi a destra e a manca perché il giocattolo si rompe. Quindi ho condiviso totalmente questa politica. Nel caso di Zidane c'era qualcosa di diverso. Era il congedo di un giocatore di una tale forza simbolica che non potevano lasciare una lacerazione e un lutto per sempre. Va bene, mi pare che... Giampiero, prima di tutto, che Zidane sia stato un grande campione e che sia un grande campione nessuno lo discute. Il problema è che lui innanzitutto è voluto andare via, non l'abbiamo mandato via noi. Nel momento in cui gli ultimi due mesi di campionato ha insistito talmente tanto e abbiamo anche avuto qualche discussione che non portiamo al pubblico dominio ma sappiamo noi quello che è successo. A quel punto lì era doveroso di ridisegnare una Juventus senza Zidane e con criteri diversi. Mi sembra che tutto sommato la Juventus è ridisegnata, abbia dato quello che in pratica tutti volevano compreso te perché tu sei un tifoso della Juventus e io credo che stasera sarei contento e avrai avuto una grande soddisfazione. Sbigottito di gioia. È strafelice. Allora facciamo un po' il giro. Dove andiamo? Andiamo da... Allora io passo il microfono. Scegli tu Del Piero, Lippio, visto Giraudo. Antonio fai tu, Del Piero. Ci siamo... Alessandro, mi senti? Sì. Ci siamo visti qualche settimana fa, non ci speravi, mi sembrava, nello scudetto allora. Ma non è che non ci speravo, è che sempre ha avuto il match point, diciamo così, l'Inter. Anche oggi. Per cui la nostra strada sarebbe sempre di pesa anche da quello che faceva l'Inter. Tu sei riuscito a Udine a esorcizzare quel ricordo dell'infortunio così tremendo che hai subito. Ronaldo non ci è riuscito allo Stadio Olimpico, vuoi dirgli qualcosa? Ma cosa posso dirgli, io sono passato dalle cose che sta sentendo lui, tutto quello che posso dirgli non gli servirà, penso a niente, anche perché non vorrei fare figure retoriche o altro. E' chiaro che io sono contentissimo, gli auguro ogni bene, come sempre è stato, però giochiamo in squadre diverse purtroppo. Paolo Rossi qui che, se non ricordo male, vinse lo scudetto con la Juve nell'82, prima dei mondiali. Rientrasti a Udine facendo gol. Sarà un presagio questo, l'anno in cui Juventus vinse il campionato e poi l'Italia vinse il campionato del mondo, quindi questo potrebbe essere... Vedo che siamo, hai capito Alessandro? No ma io sono contento, sono contento del Piero perché a me rimangono molto simpatici tutti quei giocatori che durante la loro carriera soffrono, lottano, hanno degli infortuni e poi risolvono. Io sono veramente soddisfatto e contento per lui, mi piacciono a me questi giocatori che hanno un carattere che lo sanno tirar fuori al momento opportuno. Di buon auspicio mi pare. Padovan, Del Piero tra l'altro, Arrigo. Qui ce ne sono 3-4 che hanno sofferto perché oltre a Alex, anche Conte, anche Ferrara, quindi sono delle persone di grande livello. Grandi combattenti. Sì, non solo dei grandi giocatori a parer mio ma proprio degli uomini di grande livello. Giancarlo, un Del Piero in grandissima condizione in queste partite di buon auspicio per il mondiale ma è stato decisivo anche e soprattutto nella Juventus a dispetto di quello che diceva qualcuno. Diciamo che è stato, da lui si vuole sempre il massimo e però molti non sono abituati a pensare, pensano al calcio come al gol e basta, come la risoluzione. Del Piero innanzitutto è una seconda punta, prima. Seconda cosa, era già stato un uomo molto utile, molto importante anche negli anni precedenti quando era diventato l'uomo assist della Juventus. E quest'anno ha ritrovato a mio giudizio non tanto l'esplosività che qualcuno gli rimarcava come assente ma la continuità invece di rendimento. A lui, ma potrei dirlo a tutti quanti, vorrei chiedere comunque a qualcuno una domanda indirizzata alla Juventus. Facciamolo a lui adesso. Alla Juventus. Se non sbaglio, ma non credo di sbagliare, la Juventus conquista oggi uno scudetto con gli stessi punti con i quali l'anno scorso Ancelotti arrivò secondo. Che cosa significa questo? Che cosa significa questo? Ancelotti è un uomo meno fortunato, la Juve di quest'anno è più fortunata o il campionato di quest'anno è un pochino di livello meno alto rispetto a quelli precedenti? Credo innanzitutto che rispetto a due anni fa quest'anno c'erano tre squadre a lottare per il titolo e non due. E poi ogni campionato ha una storia a sé, non è che qui si stiamo parlando di due o tre punti che sono poca roba, anche se molte volte come per noi a vantaggio quest'anno e a svantaggio in altri anni un solo punto va al solo scudetto o no. Ogni campionato ha una storia a sé. Andiamo da Marcello Lippi, abbiamo qualche curiosità, poi vedo naturalmente tutti gli altri. C'è da Roberto Bettega che voleva esprimere però un suo paese. Ma ci ascoltano adesso? Ci ascoltano tutti? Sì, 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 tutti, tutti. Roberto. Ascoltiamo Sandro. Ciao, ciao. Io volevo soltanto dire, ciao a tutti, che è sempre la storia del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Eh sì. Nel senso di volere far apparire un qualcosa di negativo perché noi abbiamo vinto il campionato. Io credo che è stato un bel campionato, è una grossa lotta davanti, in mezzo e dietro. E a volte i campionati ne abbiamo vinti anche con meno punti forse nella nostra storia. Però l'abbiamo vinto davanti agli altri facendo un punto in più e credo che sia questo quello che conta. E volevo dire ancora una cosa riguardante prima Zidane. E mi sorprende che uno storico juventino come Mughini non lo pensi. Qual è la forza della Juve, della sua storia e dei suoi successi? Che non si è mai fermata né su un giocatore, né su un grande campione, né su dei grandi dirigenti come noi. Ha sempre andata oltre, è sempre andata avanti. Quindi è andata e andrà avanti oltre Zidane, andrà un giorno avanti oltre questi campioni, anche se Ciro fa un po' le smorfie, e come è andata avanti al di là di tutti i campioni che ha avuto nel passato. Questa è la storia della Juve. Sandro, mi puoi fare storia? Prego. Beh, io volevo dire a Roberto, al quale mando stima e tante altre cose, oltretutto a proposito di atleti che hanno sofferto, non voglio dimenticare che dalla squadra campione del mondo era rimasto assente a causa di un infortunio Roberto Bettega. Ma voglio dire a Roberto Bettega che nella nostra storia alcuni nomi erano invece imprescindibili. Giampiero Boniperti per una certa fase, lui per un'altra. Non era pensabile che Roberto Bettega venisse ceduto. Beh, il calcio è un po' cambiato. È cambiato, è cambiato. Ahimè è cambiato. Ma io ho detto rimane una cicatrice e un lutto. Non è che ho detto impossibile che accada, ho detto che rimane una cicatrice e un lutto. Allora, Lippi, Marcello. Sì. Mi senti? Sì, sì, ti sento. Perché volevo tornare un po', insomma, adesso non è che vogliamo omaggiare la Juventus, però vogliamo anche un po' sondare il vostro stato d'animo, perché fino a cinque domeniche fa, per esempio, insomma, tu eri abbastanza arrabbiato un po' per i risultati, un po' per la critica feroce che ti aveva un po' messo nel mirino, no? Perché si parlava addirittura di divorzio, ricordo, dalla Juve dopo il pareggio interno con la Lazio. No, volevo capire il tuo stato d'animo di allora, perché parliamo in fondo di poche settimane fa. Il mio stato d'animo, allora, innanzitutto, io so perfettamente che noi conviviamo con questo tipo di critiche, chiamiamole, quando una squadra sembra che sia lontani da un obiettivo, c'è subito chi pensa che sia da rifondare, che sia da cambiare allenatore, da cambiare giocatori, eccetera, eccetera. Però, quando mancano ancora tante partite alla fine del campionato, anche se ci si stacca dal vertice, rimane sempre la speranza di potersi riagganciare. E poi, credo che nella settimana dopo il pareggio con la Lazio, la settimana che tu ricordavi, appunto, la società vi ha fatto una cosa molto importante, cioè mi abbia offerto l'allungamento del contratto. Questo è stato sicuramente un'iniezione di grande fiducia da parte della società. Perciò io sono sempre stato molto sereno e molto tranquillo. Giacomo Bulgarelli. Marcello, secondo te questa Juve, la Juve di questi ultimi tempi, sarebbe stata eliminata nella Coppa dei Campioni? Eh, qua entriamo... Secondo me no, difficile no. Probabilmente no. Probabilmente no. Noi abbiamo ricordato più di una volta che abbiamo giocato una partita molto importante, e anche bella a Milano contro l'Inter il sabato, vincendo fino al 92esimo e poi prendendo il gol all'ultimo minuto. E tre giorni dopo siamo andati a giocare una partita importante a Leverkusen, senza sette giocatori importanti. e credo che è lì sia un po' deciso il nostro destino per la Champions League. Però Arrigo, credo che voglia dirti di non avere troppi rimpianti, vero Arrigo? Sì, credo di sì, perché la Juventus ha dimostrato quest'anno, come sempre devo dire, una grande competenza in quanto ha fatto una cosa che esula dal nostro modo normale di pensare, cioè ha venduto il giocatore più bravo del mondo ed è riuscita a vincere. Però non credo che la Juventus di quest'anno avesse la forza per poter concorrere sia nel campionato sia nella Coppa dei Campioni, quindi l'uscita nella Champions League l'ha molto probabilmente agevolata per la vittoria di questo campionato. Questa è una tua convinzione da tempo, che è difficile ormai per il calcio di oggi andare su tutti i due fronti. Sì, Marcello, il discorso che ha fatto Arrigo, che saluto. Ciao, Marcello, complimenti. Ciao, grazie, grazie. È talmente giusto che da quando è cambiata la formula dalla Champions League e adesso per arrivare in fondo ci sono due ginone di qualificazione, per arrivare in fondo sono 17 partite, nessuna squadra italiana è mai arrivata ai quarti di finale. Questo è un dato di fatto. Fanno grande fatica anche le squadre europee ad andare in fondo, mi sembra che quasi nessuna riesca ad andare in fondo a tutte le competizioni, ma soprattutto le squadre italiane da quando c'è la nuova formula non sono arrivate più oltre i quarti. E questo probabilmente in funzione della nostra vittoria del campionato, l'uscita dalla Champions League è stato un fatto molto importante. Allora, domande per tutti. Spillo. Mister, buonasera Altobelli. Complimenti. Gli hai dato una delusione grossa stasera. Dillo. Sì. Io volevo dire, giustamente, Bette che ha detto che bisogna guardare al di là degli uomini, però quest'anno lei si è dovuto inventare Tudor in mezzo al campo, Montero, terzino sinistro, e poi ha avuto il genio di far giocare Nedved dietro le punte, perché la Juve, come era messa nel giro d'andata, non è che era una squadra competitiva, ha sofferto. Questa è una domanda. E poi, l'altra è... Vabbè, qui è un complimento che ti faccio. Sì, è un complimento. Poi, gli volevo chiedere, questa nausea da omito che aveva, da cosa dipendeva. Il clima vomitevole. Allora, cominciamo da... Io ho la nausea, a parte il fatto che non mi sembra di essere l'unico addetto ai lavori, che ogni tanto denuncia di sentire una certa nausea. Non mi pare di essere l'unico. E poi ho specificato anche che è una cosa che riguarda la settimana, da lunedì al sabato. Le domeniche, invece, sono sempre di grande sana sportività. Per quanto riguarda le problematiche che abbiamo dovuto affrontare durante l'anno, la prima, quella di Tudor, è stata una necessità, perché avevamo Davis squalificato e Conte, che era reduce dall'infortunio ed era ancora in fisioterapia. Poi, dopo, credo che un allenatore, se le cose non funzionano come vorrebbe per far rendere al meglio la propria squadra, debba cercare di sperimentare, di cambiare, finché non trova la quadratura giusta del cerchio. Fino ad arrivare, per esempio, al Montero-Tezino-Sinistro di queste ultime due domeniche, dopo che si è fatto male per sotto. Credo che sia giusto che un allenatore provi a fare tutto quello che è possibile fare per far rendere il meglio ai propri giocatori. La fortuna è di avere dei grandi calciatori. coinvolgiamo un po' tutti. Arrigo, sì, contro replica. Marcello, adesso stai vivendo una serata, credo, di grande gioia. Un pensiero per Cooper? Ma io, allora, intanto cominciamo col dire che è un mese, forse anche di più, che io continuo a dire che le tre squadre che sono arrivate in fondo andrebbero accomunate tutte in un grandissimo applauso. E certamente, ho anche detto che la squadra che poi alla fine sarebbe arrivata avanti a tutti avrebbe avuto un ulteriore applauso in più. noi siamo tutti uomini di sport e sappiamo cosa significa stare in testa della classifica tutto l'anno e poi perdere lo scudetto all'ultima giornata. Perciò capiamo la delusione e il dispiacere di tutto l'ambiente interista, compreso l'allenatore, che è stato molto bravo, fra l'altro, a creare una squadra competitiva per tutto l'anno, io l'ho detto tante volte. E in questo momento capisco certamente la sua delusione, però devo dire che la nostra soddisfazione, ma non in funzione dell'Inter, in funzione di quello che abbiamo fatto noi, la nostra gioia è molto grave. Allora, non so, Ciro Ferrara, perché sei stato evocato qua, tu di Scudetti nei 26, mi ricordavano, che io abbiamo contato male. Sei, sei. 4 più 2 col Napoli? Sei. La matematica non è un'opinione. Chi c'è lì? Marco Francioso col piatto, che fai? Cos'è? Nenticchie. Cosa sono? Che fai? Il mimo, non lo capisco. Questo è un piatto di lenticchie, cioè? Che offre a un certo buffon, anzi, dico buffon, a chi li offri? Perché? Alla Lazio. Alla Lazio. Ho fatto così, una battuta, nel senso che, riferendomi un po' al mister, quando sei stato, alla sua prima intervista, ha detto che, come essere a tavola, e c'era il ben di Dio da mangiare, alla Lazio, ho detto che è rimasto il piatto di lenticchie, per il quale giocare oggi, però devo dire che, insomma, ha onorato l'impegno fino alla fine, e se abbiamo vinto, è stato anche a merito loro. Bene, Ciro. Buonasera. Buonasera. Ha contato bene? Sì, l'avete contato bene, sì. E ti conto bene, anche se dico che dal primo scudetto, sono passati quasi 17 anni? Sì, oggi sono 17 anni, dal mio debutto in Serie A, contro la Juventus, tra l'altro. Complimenti. Grazie. Ma allora, ma allora, questa storia che saresti troppo vecchio per la Nazionale, com'è? Sì, sono un nonno, e insomma, sono contento di esserlo, e contento comunque di aver dimostrato, ancora una volta, se ce n'era bisogno, insomma, di poter essere utile alla causa. Mi stanno massacrando qui. Che dicono là? Arrigo, perché non si possono convocare i giocatori? C'è Conte che ride, tanto lui è giovane, Conte. Eppure lui, esatto. Non è che, voglio dire. È bello giovanotto lui, è un giovane della primavera, Conte. Mughini. No, io volevo dire che tra la Juventus, che aveva più di una difficoltà della prima fase, e la Juventus quasi sempre, insomma, convincente, se non avvincente, della seconda fase, c'è l'acquisto di questi due giovani campionisti, campioncini in erba, che è avvenuto tra dicembre e gennaio, i due campioncini in erba, Ferrara e Conte. Ecco, è giusto. Giraudo, ma la Juventus ha paura di una sospensione del titolo domani per eccesso di rialzo? Lo vogliamo, perché comunque anche i risultati sportivi hanno un'incidenza su quelle che sono le quotazioni. Però non è questo il punto, il punto è di essere in borsa con un progetto industriale che vuol dire sicuramente essere competitivi al massimo livello sportivo e avere anche un progetto che però contempli un patrimonio che sia diversificato rispetto all'esclusivo patrimonio calciatore. so che l'avvocato Chiusano che accanto a lei voleva rivolgere un pensiero diciamo così affettuoso ad un amico che non c'è più. Sì, al povero Peppino Prisco per quale mi separava la passione sportiva eravamo avversari leali ma avversari da punto di vista sportivo e anche in altri campi qualche volta eravamo stati avversari nelle aule di giustizia però eravamo dei vecchi amici quello che si dice dei cari amici due persone che si stimavano e che si volevano bene e quindi penso che lui da lassù oggi ci guardi con parecchia tristezza penso che sarebbe stato un giorno triste per lui purtroppo la sua tristezza sta a fronte la mia grande gioia perché è stato un grande scudetto questo è il calcio è stato un grande scudetto è stato un grande scudetto sofferto come tutte le cose sofferte quando si vince sono più belle sicuro volevo accumulare a questo ricordo anche proprio per i tifosi della Juventus che hanno qualche anno in più Lucia un ricordo per un altro personaggio che non c'è più si è morto proprio oggi Cesmir Vickpalec che è stato allenatore della Juventus tra l'altro zio anche di Zeman nelle due stagioni 71-72 273 proprio sulla panchina bianconera vincendo nell'ultima occasione proprio uno scudetto come oggi diciamo così in uno sprint finale con il Milan di Rocco e quindi è morto proprio oggi avrebbe compiuto 81 anni tra pochi giorni è giusto ricordarlo è giusto sì brava Lucia allora torniamo un attimo da Buffon che vedevo in grande in grande euforia no? naturalmente dico ma Gigi com'è quel coro per Peruzzi lì? com'è nato? no avevo fatto un coro per Peruzzi poi è iniziato uno per Poboschi perché perché insomma come ho detto prima non è che oggi chiaramente noi abbiamo fatto il possibile per poter mettere in difficoltà l'Inter è chiaro che poi se non ci fosse stato anche la Lazio con i suoi campioni a darci la mano sarebbe stato tutto inutile qui abbiamo un problema grosso però in studio chi consola Luisa Corna? chi è? no di voi chi vuole rivolgere un pensiero a una tifosa non c'è verso adesso sei inconsolabile no passerà col tempo ma no chi ci prova? Gigi provaci tu dai no io ho poco da dire non lo metterò in imbarazzo cosa vorrei dire vuoi consolare un altro tifoso consola un altro tifoso interista allora toglilo dai vediamo che ci limiti al dire ma sinceramente guardate la mia gioia è talmente tanta ho fatto centro il primo anno che per l'amore di Dio mi dispiace perché hanno sempre subito una delusione però penso che la Juve l'aveva subita due anni fa e insomma il calcio è una ruota che gira oggi insomma abbiamo potuto sono stato fortunato a beccare l'anno giusto ecco buona scelta di tempo come i grandi portieri Antonio Bartolomucci con il suo dialetto Leccesi mi puoi aiutare a risolvere un mistero però perché oggi ho sentito Antonio Conte lì negli spogliatoi che sta per togliersi un sassolino dalle scarpe riferito alla Perugia poi qualcuno ti ha imbavagliato ti ha impedito di dire quello che stavi per dire ma a chi la dedicavi quella vittoria alla vittoria di oggi? No la vittoria di oggi sì io non è che mi sono tolto un sassolino stavi per dire una cosa che non ti hanno fatto dire dilla stasera era bello grosso quel sasso era grosso no no assolutamente era rivolto a quelle persone che comunque hanno gioito della nostra delusione due anni fa a Perugia io ho detto adesso guardate mi stiamo godendo è giusto che sia così ma c'è una cosa in particolare orgoglio a lui è giusto volevo Sandro che dice dicevo ad Antonio che quando ho visto che si interviene non l'avevo mai visto così scatenato era scatenato incredibile ma la gioia inaspettata è quella più bella Giampiero io volevo dire una cosa in quell'occasione che fu per noi molto amara e se tu lo ricordi molto molto amara perdere in quelle condizioni naturalmente nella vita e nello sport c'è di tutto io però alzai il cappello dinanzi definisti Collina ministro dell'interno si definì Collina ministro dell'interno nell'aver preso quella decisione è una definizione che non potrebbe essere più perfetta lui agì da ministro dell'interno nei confronti dello spirito della subcultura anti-juventina che ahimè anima diciamo no poi scusate devo subito correggere c'era stato un errore a nostro favore c'era stato un errore arbitrale a nostro favore Cannavaro no no c'era la subcultura in più c'era stato effettivamente in punta di fatto un errore arbitrale a nostro favore che lealmente riconosciamo ma così come ripeto credo che in quell'occasione comunque noi presentammo le armi a cominciare da Luciano Moggi al vincitore io spero che gli amareggiati sconfitti di oggi la cui amarezza infinitamente rispetto presentino le armi agli strameritevoli campioni bianco e nero bene Diego tu vuoi dire qualcosa ai campioni d'Italia? sono contento per loro hanno vinto sono stati più bravi volevo sapere dove andavano adesso volevo capire perché vedo un'aria come di una partenza dove andate a festeggiare? Alessandro risponde dai che avrà sicuramente un programma ciao Alessandro ma domani vi allenate se non sbaglio andiamo a casa ognuno a casa propria perché speravo c'è Enrico che spera che andate a festeggiare così per sette giorni per sette giorni per la finale di Coppa Italia noi andremo a festeggiare infatti stiamo aspettando che ci liquidate infatti era quello che volevo dire no abbiamo ancora per parecchio no scherzo scherzo adesso avete qualche ultima curiosità? avete non so non so chi mi vuole rispondere Bettego Giraudo avete già parlato con l'avvocato Agnelli? si ci ha chiamato subito dopo che è finita la partita era molto contento e credo abbia anche rilasciato una dichiarazione alla stampa perché l'abbiamo letta l'avete letta è stata simpatica perché quando ha cominciato a capire che si poteva vincere il campionato lui ha detto quando l'ha detto Sensi e quindi mi sembra che abbia centrato lei quelle dichiarazioni lì come le prese? ma bene perché ci ha fatto i complimenti io credo che sia meglio quando ti dicono che sei bello bravo alto buono piuttosto che ti dicano che sei non so piccolo cattivo brutto tipatico no? senta ma tanto per così capire anche quello che ci aspetterà in futuro dal settore arbitrale perché qui Arrigo prima ha lanciato una proposta ha detto facciamo il sorteggio integrale così eliminiamo tutti i sospetti dal campionato italiano voi sareste favorevoli? ma io credo che sia abbastanza sbagliato parlare in questi termini di situazioni cioè in Italia c'è proprio in tutti i settori non solo nel calcio la corsa la dietrologia quindi abbiamo già avuto il sorteggio integrale il mezzo sorteggio il triplo sorteggio i doppi disegnatori credo che ci voglia proprio una cultura una cultura che nel nostro paese a livello calcistico non c'è come ad esempio c'è in Inghilterra o in altri paesi da noi si vuole sempre vedere qualcosa dietro per cui io non credo che sia quella o altre le soluzioni credo che sia un cambiamento di cultura in questo dobbiamo metterci un grande impegno noi tutti del settore e ci debba dare una grande mano alla comunicazione sportiva un'ultima cosa del Piero un consiglio di Paolo Rossi e di Altobelli su come si vince un mondiale forse così l'importante è non partire come è partito Paolo perché se le prime quattro partite non stava in piedi per fortuna si è ripreso allora quello è il segreto no no deve partire subito veloce partire piano per arrivare forte eh sì partire piano ma io ero lì speravo tanto che lui andasse piano perché io volevo prendere il suo posto invece a un certo punto si è ripreso è esploso e ho dovuto aspettare l'ultima partita prima di giocare comunque Alex adesso dopo questo magnifico le ultime 7-8 partite è stato veramente grande pensa di aver riconquistato magari la maglia da titolare la maglia da titolare perché l'aveva persa eh c'è stato c'è stato qualche partita che non è che era tanto sicuro allora sì effettivamente a inizio anno non era sicurissima adesso non so se lo è insomma io vado in campo sempre per fare del mio meglio ecco spero di emulare i rossi l'ho tifato da piccolo e spero che queste questi incroci così siano di buono spicchi e Buffon sì e c'era Roberto che voleva intervenire un attimo no volevo dire che potevo dare io il consiglio Alessandro su chi con chi non giocare di quei due perché ci ho giocato con tutti e due posso essere un buon consigliere credo e allora no l'altra l'altra cosa volevo anche come Juventus ufficialmente unirsi al ricordo di Cesc Mirvig Palek che ha allenato per quattro anni la Juventus vincendo due scudetti e quindi è stata una perdita molto importante per noi adesso non dico per me in particolare o per l'avvocato Cusano che l'abbiamo conosciuto di più ma sicuramente ha contribuito una parte della nostra storia e questo è stato importante poi se mi permettete una chiosa simpatica anche se faccio proprio sono simpatico i miei una chiosa simpatica vado a salutare un amico portafortuna ancora tifoso dell'Inter penso non penso che abbia cambiato che Davide Alevim che è stato un portafortuna importante per noi va bene lo salutiamo salutiamo tutti voi vi ringraziamo per essere stati con noi fino a quest'ora grandi complimenti e buona buona settimana ai campioni d'Italia della Juventus presto gli altri servizi adesso i servizi che mancavano così poi arriviamo alle ultime battute con i nostri ospiti se sono pronti via i servizi Ferletto Bazzone è squalificato in tribuna ma sembra un animale in gabbia in panca soffre per lui Leonardo Menichini lo ha già fatto l'estate scorsa per l'Inter Toto questa volta in palio c'è la salvezza impresa difficile per le assenze di Bonera Susse Guardiola in compenso Baggio c'è dall'inizio Francesco Guidolin si gioca in 90 minuti la credibilità di un campionato che comunque vada a finire è stato sopra le righe Olive Falcone non ci sono signori ni Beppe Golla fa sponda con Brighe sulla rispinta di Castellazzi il suo piattone acrobatico di sinistra è fuori l'urlo è liberatorio ma non basta Roberto Baggio replica sul calcio di punizione ma Pagliuca è attento e rispinge con i pugni il portiere bolognese si merita ancora di più la pagnotta sul tiro di Toni ispirato da Roberto Baggio si va avanti con il Brescia che preme Antonio Filippini sulla destra fa il diavolo a 4 sulla cross di Shop Toni in acrobazia manda fin di palo ma dalla parte sbagliata il Bologna soffre ma non è rinunciatario signori mette dentro per la testa di Fresi l'anticipo su Castellazzi gela i tifosi bresciani il pallone va fuori Roberto Baggio c'è come prima impegna Pagliuca sul calcio di punizione poi sfrutta il meglio il cross di Antonio Filippini ancora una volta deve fare i conti con Pagliuca anzi con l'istinto dei campioni quale il portiere bolognese i tifosi del Brescia si scatenano alla notizia del 2 a 0 del Piacenza sul Verona i due filipini trottolano e preparano con l'aiuto di Toni l'assist per Bacchini tra il dire e il fare c'è un'eternità ma il pallone alle spalle di Pagliuca libera l'urlo dei bresciani in la Bologna non reagisce Roberto Baggio batte l'ennesimo calcio di punizione Pagliuca replica in calcio d'angolo Guidolin manda il capo Bellucci la partita cambia il Brescia soffre Brighe è perfetto nello slalom il tiro finisce vicinissimo al secondo palo al 29esimo il Brescia prepara il raddoppio con l'onipresente Baggio e Toni Pierluigi Collina fischia il sacrosanto calcio di rigore Pagliuca è caricatissimo Roberto Baggio si asciuga il sudore parte deciso buona la seconda perché Pagliuca non ci sta sente l'Europa sfuggirgli dalle mani c'è anche la terza rete sul filo del fuorigioco per Toni un attaccante dei piedi buoni ma tre reti sono troppe per il Bologna l'Inter toto non lo ripaga per l'ottimo campionato disputato Brescia festeggia la salvezza dedicandola a Vittorio Omero proprio un bel gesto è rimasto solo Alberto Malesani ai bordi del campo gli pesa la sconfitta che vale una stagione dopo tre anni il Verona torna in B con grande fair play prima Fulvio Colovati direttore sportivo del Piacenza e poi Fabrizio Garilli presidente lo consolano frasi sentite o di circostanza fatto sta che il Piacenza si mette in tasca la certezza della permanenza in Serie A con una partita giocata al suo solito standard intensità concentrazione gioco e voglia di rischiare anche se il risultato la fortuna come il quinto quando Gautieri colpisce il palo non è sempre dalla parte della squadra di Novellino la replica del Verona arriva soltanto dopo 23 minuti e una conclusione dalla distanza di Italiano al venticinquesimo il Piacenza riprova a sfondare e si guadagna un calcio di punizione battuto con una precisione magistrale da Volpi che sblocca così il risultato 1-0 per il Verona tutto si complica e va a chiudere il primo tempo con un forcing disperato protagonista Mutu ma guarda il ben lo chiude per due volte 25 secondi della ripresa Ferrono non può far altro che uscire a valanga su Ubner lanciato a rete il rigore è battuto dall'attaccante del Piacenza che puntella è risultato sul 2-0 cui si aggiunge la notizia che il Brescia sta vincendo è una mazzata per il Verona che ci mette 20 minuti per riprendersi ma su Camoranesi guarda il ben è insuperabile al 39esimo il 3-0 che chiude la partita e spalanca così le porte della B al Verona ed Emanuale Volpi Gautieri Ubner pare tutto disegnato col compasso Ubner mette a sé in una doppietta il trionfo per lui 35 anni arrivato in Serie A solo l'anno scorso e quest'anno già miglior canoniere della Serie A insieme a Treseghe 24 retti fresco discudetto in fondo anche lui questa sera può sentirsi un po' campione d'Italia come in tutte le favole che si rispettino anche quella del Chievo ha avuto il suo lieto fine la squadra di Del Neri chiude al quinto posto che vale l'accesso alla Coppa UEFA un'avventura che gli amanti del bel gioco vorrebbero non finisse mai all'inizio Chievo Atalanta sembra la classica partita di fine stagione ritmi blandi e squadre poco propense a dare profondità alla manovra la scossa la danno i nerazzuri di Vavassori con Beretta che prova le qualità in uscita di Luca Pelli il Chievo risponde con Manfredini che calcia debole sui piedi di Tahiti solo sul finale di tempo il Chievo crea la prima vera occasione gol con Marazzina che si libera bene ma calcia su Tahiti la ripresa si apre con il vantaggio dell'Atalanta lancio calibrato di Doni tocco morbido di Rossini e palla in gol in questo momento il Chievo è fuori dall'Europa e la reazione è immediata passano soltanto sei minuti e Franceschini serve a Corradi il gol del pareggio Velleri capisce che può vincere la partita e gioca il jolly Federico Cossato con tre punte di ruolo il Chievo si riversa nell'area nerazzurra e con Marazzina va vicino al gol in due occasioni la rete che decide la partita la firma proprio Cossato su preciso lancio di Barone è il gol che apre la festa del Chievo mentre negli occhi resta quell'incredibile onda gialla che dopo aver meravigliato in Italia si appresta a sorprendere anche in Europa da Parma Venezia non ci si poteva aspettare forti emozioni ed infatti quella più grande è giunta all'86esimo quando Cannavaro sostituito da Sartor viene usannato ed applaudito da tutto lo stadio dopo sette anni con la maglia del Parma il forte e richiestissimo difensore saluta con moto i suoi ormai vecchi tifosi la sfida si accende se così possiamo dire al settimo quando Maniero non visto dall'arbitro Bertini stoppe il pallone con la mano e successivamente batte con un delizioso tiro il portiere Frey il suo diciottesimo gol è un ulteriore richiamo per le grandi il Parma non trovando spazi prova dalla lunga distanza con Divaio prima e la Mucì dopo ma Brivio non corre alcun pericolo al quarantatresimo l'arbitro Bertini anche lui in giornata no concede alla squadra di Carminiani indiscutibile rigore per questo intervento di Bilica su Buonazzoli dal dischetto non sbaglia Divaio al suo ventesimo centro nella ripresa siamo al sessantesimo Divaio sul calcio di rigore avrebbe la possibilità di allungare in classifica marcatori ma questa volta più bravo di lui è il portiere Brivio a settantonevesimo Micù entrato nella ripresa regala gli ultimi tre punti della stagione al suo Parma Cersei Cosmi non poteva festeggiare in modo migliore il suo quarantaquattresimo compleanno il suo Perugia chiude a quota 46 in campionato ed acquisisce il diritto da partecipare all'Inter Toto pronti via e gli Umbri collezionano due occasioni da gol prima con Vrizas su cross di Baiocco e poi con Milanese su corner di Zemaria la festa del gol si apre al minuto 8 con Bazzani che ribadisce in rete un colpo di testa di Tedesco respinto dal giovane Cassano Zemaria prima tenta da 40 metri e poi su calcio di punizione dal limite fa centro ritagliandosi una passerella personale la Fiorentina non c'è da tempo figuriamoci oggi non c'è fine campionato senza pioggia Perugia così dopo un minuto della ripresa l'arbitro Morganti fischia la ritirata strategica si riprende dopo 7 primi ma le condizioni del terreno non permettono movimenti e tocchi azzardati al ventesimo della ripresa finisce ufficialmente l'avventura di Bayocca al Perugia ed inizia quella del non ancora diciottenne Crisso Baudot che confeziona l'ultima palla gol della partita tra il suo colpo di testa in tuffo e la gioia del gol però c'è amoroso la Fiorentina conclude nel peggiore dei modi un'annata disgraziata collezionando la settima sconfitta consecutiva e finendo in nove per l'ingiusta espulsione di Tarozzi alla fine del primo tempo e per la sospetta frattura al perone sinistro di Torricelli a metà ripresa ovvi gli auguri a giocatore e squadra Allora Gatti, Ligas Irma d'Alessandro Vesentini Massimo Rognoni e Bombacci le firme dei servizi che abbiamo visto c'è un ultimo arrivato proprio in extremis Enrico Bertolino ciao ciao a tutti ha recitato fino a poco fa sì ho voluto passare a salutarci ti ringrazio molto grazie a voi per l'invito ho voluto onorare l'impegno sentivo venendo l'onore delle armi le armi di onore è giusto che uno che abbia un impegno lo onori almeno personalmente avevo l'impegno di venire qua da voi l'ho voluto onorare comunque perché mi sembra giusto che anche nel perdere si mantenga uno stile che il mio presidente mi ha insegnato cioè lo stile di essere sempre presenti comunque che bravo ecco la sciarra ma con ma con quale è stato ha voluto credevo lo stile di perdere ha voluto no no ma va bene anche nel perdere bisogna avere stile il vostro presidente è veramente una brava persona mi piace a me mi dispiace non perché gli altri presidenti siano più bravi anche la giove sono bravi però no non è un gufo allora vedi che non è un gufo buono mi dispiace mi dispiace non me l'aspettavo neanche io cioè i miei amici oggi con la faccia gli è venuta la faccia da interista così a perdere come si sa allora prima delle domande finali per tutti Luisa ci ricorda una cosa importante si è un importante messaggio di solidarietà domenica 12 maggio in 2800 piazze italiane compriamo tutti la zalea dell'Aerce l'associazione italiana per la ricerca sul cancro con un contributo di 13 euro daremo il nostro aiuto a questa causa così importante insomma un piccolo gesto per aiutare la ricerca di chi lotta contro questa terribile malattia grazie con il sorriso di Luisa non si può dimenticare questo appello allora spazio per tutti prima naturalmente della nostra programmazione consueta quindi la serie B studio sport e fuoricampo Lucia esito finale del sondaggio vediamo se è d'accordo Bertolino sull'esito finale del sondaggio allora la causa della disfatta di oggi dell'Inter all'Olimpico è il crollo psicologico con il 41% subito dopo le colpe dei giocatori con il 37% minore invece le altre cause perché vedete c'è un crollo fisico con il 16% e poi 6 tra forza della Lazio e le colpe di Cuba Enrico per quale avresti votato? sì anche io avrei votato per il crollo psicologico perché vedendo la partita l'ho vista oggi in sede nella sede dell'Inter c'è stato il crollo psicologico nostro figuriamoci se non c'era quello però intendo dire voglio solo avere un'informazione chiedo perché ho un presidente del consiglio che è milanista o la Juve che ha vinto il campionato chiedo ha vinto Le Pen oppure no? No Le Pen ha perso una cosa è andata bene anche la giornata però intendo dire almeno quello chiedo posso in termini di stile che tu hai ricordato sin dall'inizio dirti che l'analogia non era delle più felici no no ma a me è soltanto una tristezza che mi è venuta dentro perché dico su Le Pen l'analogia non era delle più felici però è una cosa che dobbiamo secondo me il calcio vive il mondo il mondo è fatto anche di queste cose siamo contenti io sono contento per me poi vediamo ognuno che sceglie non mi addentrerei in questo discorso anche perché l'analogia tra Le Pen e Del Piero non ce n'è in alcun modo possibile calcio migliore generale no volevo dirti una cosa ultima secondo me il crollo psicologico è anche evidente per una cosa il rientro in campo è stato effettivamente cioè c'è stato quel crollo col gol di Simeone cioè vedere un gol di un ex dell'Inter quello ha lasciato veramente sembrava depresso anche lui per averlo fatto bisognava non darlo via bisognava non darlo via vabbè ma quelle sono altre valutazioni intendo dire però depressione ce n'è stata il crollo psicologico anche Lucia dai una domanda per Paolo Rossi da Nicola da Roma se tu potessi tornare a giocare in quale squadra tra Inter Roma e Juventus lo faresti ti affideresti agli assist di Recoba di Totti o di Del Piero no non c'è dubbio la mia immagine è l'immagine con la nazionale con la maglia Mughini pensava diplomatica io sono rimasto legato anche alla Juventus non posso dimenticarlo perché ci ho fatto ci ho passato tre anni nel settore giornalino e quattro anni da professionista quindi è una di quelle squadre a cui sono particolarmente legato però più di tutti sono legati a questa maglia qua e a questi gol questa maglia azzurra unisce tutti qua possiamo parlare di Juventus intermina ma la maglia azzurra unisce tutti visto che non cantavano neanche loro lì ma per la vita che erano del mondo allora per chi volesse saperne di più per chi volesse saperne di più di Paolo Rossi e della sua straordinaria carriera piena di tanti episodi tanti momenti anche di amarezza di tante gioie come abbiamo visto mercoledì verrà presentato un libro una tua biografia scritta con il collega e amico Antonio Finco che saluto e che ringrazio anche perché avevo bisogno di trovare proprio uno come Antonio che avesse voglia e il tempo anche da spendere per fare questa biografia perché è stata abbastanza dura e difficile siamo stati un anno e mezzo per ricercare tutto ci saremmo trovati duecento volte credo però credo che sia stata una cosa positiva non lo dico tanto per me perché perché voglia lasciare un qualcosa di particolare ma credo che sia un libro che lo possono leggere anche e soprattutto i ragazzi perché è un libro che ha un significato particolare perché significa ho fatto piangere il Brasile sì il Brasile in particolar modo insomma per fortuna Arrigo non ci è riuscito noi li abbiamo fatti ridere invece io scriverò un libro ho fatto sorridere il Brasile dicevi Paolo no dicevo che è un libro soprattutto a mio giudizio che vuol far capire lanciare un messaggio particolare soprattutto ai ragazzi e ai giovani che affrontano lo sport la vita anche di conseguenza che per arrivare non serve solo le qualità tecniche ma serve veramente un grande carattere volontà determinazione sono tante le cose io ho avuto veramente una carriera fatta di grandi alti ma anche di grandi bassi però sono sempre poi riuscito attraverso il mio carattere di uscirne fuori molte volte da tante situazioni e credo che sia importante far sapere alla maggior parte dei ragazzi che incominciano a giocare che le difficoltà le troveranno sempre chi ha fatto sport come noi sa che non può sempre andare bene ci sono dei momenti belli dei momenti brutti non so se c'è nel tuo libro ma ti faccio io una domanda una mia curiosità personale ma tu che sei stato un grandissimo campione che sei una persona di grande intelligenza di grande competenza ma perché sei completamente uscito dal mondo del calcio no non è che ne sia uscito dal calcio non si esce mai nel senso che si rimane sempre grandissimo appassionato è una passione ancora strenata nel senso che se vedo qualche squadra che gioca bene mi piace vedere le squadre che giocano bene un conto però è giocare a calcio un conto puoi occuparsene dopo sono due cose un po' diverse giocare a calcio è una cosa straordinaria occuparsene dopo o avevo la passione tipo mister Quasaki anche a lui gli era passata anche a lui gli era passata la voglia gli è passata forse è diventata una cosa terrificante terrificante a te come ti è tornata la voglia di ritornare forse è l'unica cosa che io so un po' fare o che conosco un po' Allora siamo in chiusura abbiamo un sacco di curiosità ancora non possiamo non parlare Enrico tu lo sai siamo in chiusura tra i seghi del Piero stendono l'Udinese l'Inter crolla all'Olimpico contro la Lazio si vede addirittura superare dalla Roma che vince a Torino e mette in forza la qualificazione di Granata all'Inter Toto ora Lippi punta alla clamorosa doppietta venerdì sera a Parma si gioca il ritorno della finale di Coppa Italia questo è l'altro impegno per la Juventus veniamo alla Gazzetta dello Sport Juve goditi il trionfo suggerisce il giornale milanese ai bianconeri e parla di suicidio dell'Inter con la Lazio suicidio che permette alla Juve di conquistare il 26esimo scudetto e poi una delle fotografie che ha fatto il giro del mondo il pianto disperato di Ronaldo questo è appunto una foto tratta dalle immagini televisive Ronaldo sostituito che è tornato in panchina e piange a dirotto il sogno del tanto atteso Scudetto è svanito scrive la Gazzetta dello Sport veniamo a Roma col Corriere dello Sport Scudetto ha deciso la Lazio Juve 26 campione d'Italia 2001-2002 passa Udine con 13 gol Alex e sorpassa l'Inter che crolla all'Olimpico Materazzi rissa con i laziali dopo il K.O Roma seconda Baggio mondiale un altro elemento questo sottolineato da molti osservatori sportivi in questa domenica appunto di trionfo per la Juventus e poi riprendiamo tre titoli da tre giornali che non sono sportivi la stampa di Torino Juve campione festa bianconera il 26esimo scudetto dopo una splendida volata nella sfida salvezza condannato il Verona ci trasferiamo a Milano col Corriere della Sera battuta e superata dramma dell'Inter Juve campione e poi chiudiamo con Roma il messaggero Juve e Roma in coro grazie Lazio ecco questo lo sport nei giornali di oggi allora anche qui qualche rapida occhiata ai principali editoriali oltre a quelli appunto dei giornali sportivi la prima del Corriere Giorgio Tosatti scrive in merito appunto alla vittoria della Juve la vendetta di Lippi gli errori di Hector e poi ancora accanto c'è un'analisi di Beppe Severnini la rabbia e le lacrime sconfitti ma a testa alta e questo in merito appunto alla sconfitta dell'Inter e poi dalla prima invece del messaggero vi vorrei far vedere anche le altre due notizie importanti di sport perché non c'è soltanto il campionato ma anche dall'Ippica dobbiamo far vedere questa fotografia Veren in azione a Napoli Veren imperatore del Trotto per la terza volta vince la lotteria e poi Moto Valentino Rossi domina in Spagna viaggio squalificato partenza anticipata e ancora molto rapidamente dalla prima dell'unità sempre in merito al calcio il gusto di vincere e non ci resta che piangere l'editoriale di Alberto Crespi naturalmente i direttori dei giornali sportivi scendono in campo anche loro per commentare questo scudetto vi segnaliamo l'editoriale di Pietro Calabrese direttore della gazzetta dello sport che tra le altre cose a proposito dell'Inter scrive dispiace soprattutto per Moratti il miglior presidente che un allenatore e un calciatore possono augurarsi la classe e lo stile del presidente dell'Inter danno torto a Basquets Montalban quando scrive nessuno è mai diventato tifoso per via del prestigio del presidente di un club nel caso di Moratti si può fare un'eccezione l'uomo lo merita quindi atteggiamento di grande sportività da parte dello sconfitto presidente dell'Inter per Italo Cucci invece dal Corriere dello Sport il calcio è onesto non vomitate la Juve ha vinto uno dei campionati più belli della sua storia ne ho vissuti 18 dei suoi 26 trionfi e sono testimone dell'immenso coraggio e dell'incredibile determinazione che le hanno permesso di vincere un torneo che un mese fa era già stato perduto e questo è stato forse anche il bello di questo finale di campionato al cardiopalmo e che ha fatto molto parlare di un calcio pulito dove insomma fino all'ultimo si gioca ogni partita e dalla cronaca la prima arriva puntuale Marcello Lippi ore 10.30 occhi gonfi ma sono state le 5 ore di sonno più belle della sua vita professionale ieri quella corsa sotto la curva festeggiare il momento atteso da 4 anni abbracci baci e poi un po' di tutto intanto arriviamo l'emozione che io ieri sul campo perso 400 euro gli occhiali e una specie di portafoglietto che c'è a montarsi è rimasto là è il giorno della mente fredda si rivisita il 26esimo studetto bianconero il quarto personale di Lippi vinto con una rimonta di 7 punti nelle ultime 5 giornate proprio su quell'Inter che lo aveva bocciato un paio di stagioni fa mi dispiace per Moratti dice ma non c'è nessuna ribalsa personale sono stato massacrato dalle critiche massacrato e questo me lo dovete dare atto poi sono passato da un esonero alla prima domenica di campionato sono stato 7 mesi a casa e adesso sono arrivato qua e mi è capitato di vincere lo scudetto insieme alla mia vecchia squadra permettete che sia felice e secondo voi c'è qualcosa di ribalsa nei confronti di qualcuno? no questo è un gruppo forte e se e se guardate bene se tutti dicono che questo gruppo tecnicamente non era forte per esempio come la Roma o come l'Inter ancora più merito c'è questo gruppo 50 minuti di conferenza stampa poi a sorpresa l'arrivo del dottor Umberto Agnelli che ringrazia ma pensa già oltre ad esempio la finale di ritorno di Coppa Italia di venerdì sera contro il Parma Tanzi mi ha telefonato stamattina per farmi complimenti Tanzi la ringrazio molto dei complimenti ma io mi batterò perché i nostri facciano il modo da dare tutte le botte possibili venerdì ma come dovreste essere più simpatici e darci la possibilità o non vincere tutto no io vorrei vincere tutto poi tra loro essere capace che o Chi si sia trattato di uno scudetto particolare di una festa speciale lo confermono questa immagine il pullman della squadra con i neocampioni d'Italia che fa il bagno di folla in una piazza San Carlo in delirio non era mai successo la compassata Juventus per gli scudetti passati aveva scelto forme più sobri e di festeggiamenti e invece ieri sera poco dopo le 21 le migliaia di tifosi che dal pomeriggio percorrevano cantando innie e cori a squarciagola il centro di Torino a piedi o su auto strombazzanti sono stati ripagati dalla gioia di poter vedere i propri beniamini partecipare alla festa in mezzo a loro in tanti erano già corsi a caselle ad attendere i campioni all'aeroporto all'arrivo da Udine anche qui abbracci urla delirio per giocatori tecnici e dirigenza la festa ha seguito questo programma cena a casa di Umberto Agnelli torte e brindisi in un hotel del Lingotto e poi nottate in una discoteca della collina torinese per il popolo bianconero invece Caroselli e Cortei per tutta la notte e stamattina anche se un po' con gli occhi gonfi c'è ancora tanta voglia di parlare e di raccontare è un doppio scudetto perché ci ripaga di tutte le amarezze che abbiamo subito negli anni passati fargli le condolianze al Materazzi che ha finito di ridere è stato bellissimo un'emozione unica l'erba del prado di Udine questa è la legittima felicità dei tifosi juventini parleremo ancora di sport dopo le altre notizie perché la nostra pagina sportiva naturalmente si occupa anche degli sconfitti vedremo quali sono anche i prossimi appuntamenti legati soprattutto agli impegni di Ronaldo nello stadio maledetto rimarranno come l'immagine più significativa di questo incredibile finale di campionato il fenomeno aveva già pianto all'Olimpico un anno fa quando aveva rischiato di chiudere la carriera per il distacco del tendine rotuleo ieri c'erano tutti gli ingredienti per una festa indimenticabile ma di indimenticabile per Ronaldo c'è stata soltanto la delusione non è bastato un Olimpico interamente nerazzurro come finora si era visto soltanto San Siro non è bastato un doppio vantaggio offerto su un piatto d'argento da una Lazio che non pareva ferocemente motivata l'Inter si è dissolta nel secondo tempo vittima delle proprie ansie dei propri errori di una condizione fisica imbarazzante e i gol di Simeone e Inzaghi l'hanno condannata alla più cocente delusione dell'era Moratti ma c'è anche un risvolto Beffardo ieri sera il Valencia senza Cooper che dopo aver perduto tre finali europee ha incassato la quarta batosta consecutiva ha vinto con una giornata d'anticipo il campionato spagnolo e così la festa si è trasformata in dramma sportivo si intende lo scudetto è volato via e sono rimaste soltanto lacrime e rabbia una rabbia sfociata in un accenno di rissa al rientro degli spogliatoi tra Materazzi Vieri Stamm e Poboschi Reo di aver battuto perché la squadra ha fatto bene tutto il campionetto perché eravamo primi e perché poi a metà partita c'è stata una specie di abbandono insomma abbiamo discusso però sono cose che capitano e il sottoscritto lo aveva fatto due anni fa la Juve e se c'è una giustizia divina forse quello che deve essere beccato ero io e accettiamo così a merito anche alla Juventus siamo tutti responsabili no volevo solo dire che mi dispiace tantissimo per la squadra per tutti i tifosi per il presidente e niente andiamo a piangere un po' e così rientro a Milano che nelle aspettative degli interisti avrebbe dovuto essere una passerella trionfale si è trasformato in un calvario all'arrivo a Malpensa c'erano pochi tifosi delusi nessuno aveva voglia di parlare tutti non vedevano l'ora di tornare a casa anche la scaramanzia è andata a farsi benedire erano previsti una cena a casa Moratti la festa a San Siro e poi a Farbaldoria in discoteca fino all'alba tutto all'aria e addio sogni di gloria che strana domenica per le romane due vittorie che lasciano l'amaro in bocca più recriminazioni che gioie e nel caso della Lazio un'eredità di veleni lasciata la prossima stagione la Roma ha aspettato l'ultima giornata per conquistare il primo successo in trasferta del 2002 ha conquistato un secondo posto ormai inaspettato risparmierà un turno per eliminare di Champions League ma di fatto ha aumentato i rimpianti di tifosi e dirigenti se fosse riuscita a battere almeno una delle quattro squadre finite in serie B sarebbe stato scudetto rimpianti che diventano quasi rabbia pensando che il 2 a 2 a Venezia un mese fa fu ottenuto contro una squadra già condannata alla retrocessione quello successo alla Lazio poi ha dell'incredibile dopo una stagione balorda ha vissuto un pomeriggio da leoni tra i fischi dei propri tifosi ha deciso il campionato battendo l'Inter ha riacciuffato un posto in Coppa UEFA il tutto in uno stadio dove tutti erano nemici anche i propri tifosi la domenica dell'Olimpico ha lasciato strascichi difficilmente cancellabili mi dispiace soltanto di un fatto dei nostri tifosi veramente della curva nord che mi ha veramente deluso deluso per non essere nel momento particolare di una squadra che cercava di ritrovarsi e di una tifoseria che io forse ho perso per sempre storie di una città che vive il calcio da sempre con una passione che spesso supera l'eccesso è stato questo spettacolo un po' strano così tutti i laziali con le bandiere dell'Inter però metà dei tifosi a Roma prima di essere romanisti o laziali sono antilaziali e antiromanisti forse da ragazzino io pure ero così ma ieri c'era un altro spettatore particolarmente interessato agli eventi parliamo di Giovanni Trapattoni che fu allenatore di un'altra Juventus vittoriosa così come allenatore dell'Inter al suo ultimo scudetto 13 anni fa e che adesso si prepara a portare l'Italia ai mondiali la prima sfida è fissata per il 3 giugno vediamo buongiorno buongiorno Giovanni sorpreso di essere ancora l'ultimo allenatore dell'Inter a vincere lo scudetto siamo di lunedì tarda mattina beh per l'avere il Zappi che sorpreso direi me lo concedono i bianconieri con i quali sono stati molti anni ero convinto che l'Inter ce la facesse purtroppo è incappato in una giornata non proprio felice poi questa Lazio ha disputato onestamente la sua partita e quindi il campionato ha detto questo anche se una delle maggiori protagonisti di questo campionato è stata l'Inter direi che questo è stato un campionato avvincente bellissimo e purtroppo ci sono queste delusioni io ci sono passato anche io ecco delusioni ma una partita come quella di ieri non credo possa dipendere dall'allenatore parlo di Inter dall'allenatore dal presidente c'erano tutte le condizioni favorevoli per fare bene il Prato dell'Olimpico essendo un giocatore dell'Inter avrebbe dovuto finire giallo come se fosse passato Attila e invece Invece il bello del calcio italiano è questo quindi dopo tante supposizioni tanti pensieri positivi e magari negativi invece il pallone è proprio bello perché fra chi rimane deluso e chi ha la gioia e la soddisfazione di vincere alla lunga il verdetto è sempre quello del terreno verde allora tu hai nel DNA lo dicevi prima anche molta Juventus sono stato tanti anni sono stato tanti anni tempo addietro dicevo che questa squadra è come il Drago sette teste gli ne tagli una e una spuntunata quindi sono stato un buon profeta in questo anche se ero convinto che vincessi all'Inter puoi spregarci meglio avendolo tu vissuto essendo stato tu parte di questo DNA Juventus quello che gli anglosassoni chiamano killer instinct come si manifesta perché l'aria che respira è un ambiente in cui Piemonte è una regione un po' ancora non diciamo un'isola felice ma è una regione in cui si può magari avere meno tensioni che si hanno a Milano e Lombardia o che si hanno a Roma quindi sono città che magari sono più soggette a analisi a critiche e lì riescono ad avere ancora questa scorza questa corazza che è un po' non voglio dire stili ma voglio dire che sicuramente riescono a reggere momenti magari di maggior tensione e reggono due domande flash quando sono le convocazioni così per la cronaca stiamo facendo un flash di controllo un check di tutti i giocatori credo che entro un mercoledì sicuramente Valentini sarà in grado di darvi tutto giro tondo sondaggi ed altro ancora per Baggio ma non è non sarebbe da fare un po' no facciamo un bel sondaggio per come mettere in campo una formazione così l'allenatore non ha colpe ok hai per caso sentito Ronaldo così telefonicamente hai avuto la possibilità di incrociare emozioni no ancora no ancora non ho avuto l'opportunità di parlare con Ronaldo piangereva ieri abbiamo visto perché forse loro non aspettavano però noi che giociamo calcio da tanto tempo sappiamo come fate il calcio perché la palla bisogna mettere là dentro perciò è proprio così quando si commette un errore dentro di campo siamo noi giocatori mica sono i tifosi i giornalisti i presidenti siamo noi noi che entriamo dentro di campo e siamo noi che sbagliamo e la Roma la Roma ha fatto anche la Roma un grandissimo campionato e speriamo che per il prossimo anno possiamo fare anche meglio protagonista ieri ha lasciato il marchio sul campionato italiano Poborschi ed è protagonista ancora oggi cerchiamo di sapere dall'avvocato Felice Pulici perché e perché dopo la prestazione di ieri è partito in macchina con la famiglia per raggiungere la Repubblica cieca ed è stato bloccato a pochi chilometri dal confine dalla polizia stradale perché avendo una patente internazionale non l'ha convertita in quella italiana e purtroppo gli hanno sequestrato anche la macchina e quindi a quest'ora è ancora fermo al confine è un anno di sofferenza no facciamolo soffrire di meno insomma dati l'opportunità è un appello alla polizia sì e insomma risolverà sicuramente il problema insomma concedi al confine al confine al confine proprio per favore va bene ci fermiamo adesso qualche istante per la pubblicità a tra poco ciao 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 buonasera allora nella copertina di Francesco Marino con le riprese di Guido Cravero e il montaggio di Alessandro Morbidelli il doveroso omaggio alla Juventus una squadra che fino in fondo ha saputo credere allo scudetto tra poco sentiremo le considerazioni del tecnico bianconero Marcello Lippi che ha indovinato tutto anche quando la corsa sembrava ormai compromessa ma non c'è tempo per assaporare lo scudetto perché il presidente onorario Umberto Agnelli ha detto che non bisogna abbassare la guardia perché venerdì c'è la Coppa Italia con il Parma sentiamo Mario Pisano riposo per la Juventus il giorno dopo il trionfo tocca a Marcello Lippi parlare della felicità di giocatori e società per un'impresa che lo riempie d'orgoglio sono enormemente felice ma non sia chiaro nella mia felicità non c'è assolutamente nessuno spirito di rivalza nei confronti di nessuno mi è capitato di vincere lo scudetto insieme alla mia vecchia squadra permettete che sia felice e a sorpresa al comunale arriva anche Umberto Agnelli che dopo un abbraccio con Lippi esterna la soddisfazione per il trionfo e fa sapere di non volersi accondentare Tansi mi ha telefonato stamattina per farmi complimenti guardi Tansi la ringrazio molto dei complimenti ma io mi batterò perché i nostri facciano il modo da dare tutte le botte possibili venerdì Moratti invece non si è sentito no non ancora ma sono sicuro che lo farà eh Tansi non lo conosco Agnelli però premia approfittare del momento per sollecitare la soluzione della vicenda stadio e lo fa con un take el duro vorremmo avere uno stadio e avere la sicurezza che lo stadio diventa uno stadio della Juventus ma dipende dal comune se ci dà lo stadio non andiamo via se non ci dà lo stadio andiamo via ecco la prima giornata dopo lo scudetto è stata vissuta in maniera diversa dall'amministratore delegato Giraudo e dalla squadra Giraudo si è presentato in tribunale per presenziare al processo per l'uso improprio di farmaci tra i calciatori i giocatori bianconeri invece sono stati in visita all'ospedale Gaslini sentiamo Paolo Paganini il giorno dopo la grande gioia tricolore i giocatori della Juventus hanno fatto tappa a Genova per un'iniziativa benefica legata in particolare alla ristrutturazione dell'abbazia San Gerolamo di Quarto dell'ospedale pediatrico Gaslini un'occasione però anche per tornare sulla magica giornata di ieri il giorno dopo si sente bene siamo molto contenti perché comunque diciamo che abbiamo centrato uno degli obiettivi primari della stagione adesso ne abbiamo ancora un altro la Coppa Italia però adesso ce la stiamo godendo e stiamo festeggiando ecco da un Antonio Conte con l'abbassamento di voce a un Gianluigi Buffon in vena di battute ma sì ma anche se non avessimo vinto lo Scudetto saremmo venuti ugualmente ecco e penso che quello sia stato poi chiaramente lo Scudetto è stato un incentivo in più ecco quello che ti fa venire con ancora più voglia con ancora più ottimismo quello sicuramente lo Scudetto numero 26 porterà alla Juventus anche il quinto francobollo della sua storia l'emissione dovrebbe essere fissata per l'11 di maggio però in testa a questa classifica speciale c'è il Milan con 6 francobolli adesso torniamo al cammino del campionato e riviviamo con Gianni Bezzi i momenti decisivi lo spettacolo del campionato abbandona la scena il baracone chiude i battenti e porta via umori e malumori tra gioie e rimpianti entusiasmo e lacrime dopo un finale che sbatte la porta in faccia a quanti avevano già disegnato e scritto l'ultimo atto la storia dello Scudetto l'ha decisa la Lazio nonostante un olimpico per tre quarti in nerazzurro cementato dall'amichevole connubio tra le due tifoserie ma non è bastato il crollo dell'Inter rispecchia le ultime faticose giornate di campionato e quei punti lasciati per intero con Atalanta in casa e il punticino raccolto contro il Chievo con la rete di Cossato fondamentale per il pareggio dei Veneti le insicurezze della formazione di Cooper hanno finito per travolgere la squadra ancora ieri sebbene per due volte il vantaggio aveva illuso la Milano nerazzurra e per questo ancora più grave la resa delle armi Lazio i UEFA e vittoria dal duplice significato che consegna lo Scudetto alla Juventus e la qualificazione diretta in Champions League alla Roma ma a differenza della squadra di Lippi che ha saputo capitalizzare al massimo lo sprint decisivo a conti fatti è proprio la Roma a piangere per aver gettato la grande occasione di confermarsi campione d'Italia in una stagione non impeccabile a Capello in teoria sarebbe bastato vincere sul campo di un Venezia già a retrocesso quei due punti in più oggi avrebbero significato Scudetto un'impresa che sarebbe entrata nella storia della capitale invece no ha vinto oltre alla Juventus un campionato molto più vero dei sospetti e dei veleni dalla gioia della Juventus come si diceva all'amarezza della Roma che molto ha sciopato e dell'Inter soprattutto amarezza racchiusa nelle parole del presidente Moratti che ha detto di essere in una situazione nella quale malgrado tutti gli sforzi c'è sempre qualche cosa che non torna sentiamo da Milano prima Pier Giorgio Severini e poi l'analisi di Alessandro Forti nel 62 mi ricordo che finimmo un campionato finimmo un campionato che pensavamo di stravincere e non lo vincemmo e mi ricordo che proprio mio padre disse ma basta mi sono stufato tanto quanto mi sono stufato io esattamente quanto sono stufo io e poi passò una settimana e disse vedi l'anno prossimo vinciamo tutto basta e vincemmo tutto così Massimo Moratti cerca di farsi e fare coraggio al popolo neroazzurro arrabbiatissimo per l'epilogo del campionato il presidente dell'Inter non ha colpevoli da mettere sotto processo assolvendo Cooper non credo proprio che abbia una minima responsabilità su questo ce l'ha da tecnico nel senso che uno può vedere una partita in una certa maniera sbagliare magari nell'impostazione della tattica anzi ha tutto il merito di aver ridato di averci messo in condizione di sperare così fortemente di illuderci così fortemente di portare a casa il campionato e i giocatori? no non do la colpa neanche ai giocatori do la colpa a una situazione che si è creata per cui loro non sono rimasti vittime Moratti si rivolge anche all'allenatore della Juve partendo dai tifosi interisti non hanno nessuna simpatia per l'Ipi mentre io invece ce ne ho ancora perché abbiamo lavorato insieme so che lavorava seriamente e soffriva ma con l'Inter non andava bene va bene e va perfettamente bene e si integra benissimo nel gruppo Juventus il presidente si dice totalmente dispiaciuto per i tifosi confida di aver ricevuto una lettera di Carraro che definisce bellissima e torna sul suo stato d'animo dico che sto lasciando che mollo tutto dico che oggi sono stufo questo è abbastanza normale che oggi sono stanco dispiaciuto scusate il ritardo potrebbe essere questo il titolo adatto alla Roma di ieri una Roma che ha atteso l'ultima giornata per centrare una delle cose che più le è mancata quest'anno una vittoria fuori casa col Toro grazie al gran gol di Cassano è arrivata la prima del 2002 derby a parto perché sempre di stadio olimpico si tratta per il resto no a Udine no a Brescia no a Firenze no soprattutto in casa di un Venezia già retrocesso e anche Capello ha ammesso che quella è stata forse la partita chiave certo sono mancati anche i gol di Battistuta 6 invece di 20 c'è stato il contemporaneo impegno in Champions League a spiegare forse qualche pareggio di troppo tant'è scudetto perso di un punto e rimpianti grandi così eppure nei pensieri del giorno dopo Marco Scafu riesce a pensare positivo abbiamo fatto secondo me una grande stagione abbiamo fatto un grandissimo un campionato e siamo arrivati lì fino alla fine lottando contro Inter e Juve che sono due grandissime squadre un po' di amaro dicono tutti perché magari per un punto può anche essere ma tutto sommato è andato anche bene perché adesso siamo in Champions League anche se l'Inter non avessi perso il punto contro Atalanta il campionato era finito domenica scorsa perciò tutto sommato abbiamo arrivato alla fine della fine del campionato con un punto di differenza abbiamo arrivato da giocare l'ultima partita il campionato è un'altra volta se è deciso l'ultima partita Presidente del Consiglio Presidente del Milan Silvio Berlusconi si mostra soddisfatto per la conclusione del campionato dei rossoneri aggiungendo però di essere sinceramente dispiaciuto per l'Inter dopo 13 anni ha detto ai giornalisti a margine di una convention Moratti e i suoi tifosi meritavano di vincere lo scudetto per loro mi è dispiaciuto molto torniamo alla vittoria della Juventus purtroppo c'è una notizia triste nel giorno del 26esimo scudetto è morto infatti in una clinica di Palermo Cestmir Vickpalec che con la squadra bianconera vinse due scudetti nel 71-72 e nel 72-73